Perché creare contenuti online continuamente? Beh, perché uno degli elementi importanti in qualsiasi strategia di marketing è la Customer Retention, il mantenimento della base di clienti che abbiamo. Non dobbiamo sempre cercare nuovi clienti, perché questo è costoso. Spesso la cosa migliore è quello di mantenere i clienti che abbiamo e renderli i nostri fan. La Customer Retention è importante ovviamente, perché un cliente che già ci conosce, che ha già fatto una bella parte del Customer Journey, può acquistare nuovi prodotti e servizi, può consigliarci ad amici, parenti, conoscenti. Ed è quindi poco saggio fare come fanno molte aziende, che si concentrano molto sulla Lead Generation, ma poco sul Lead Lerturing, che è proprio la base della Client Retention. Quindi del fatto che possiamo mantenere costanti i clienti e mantenerli ingaggiati per avere diversi vantaggi, che vediamo insieme. Un primo vantaggio è quello di avere acquisti multipli. Cioè la persona non acquista solo un prodotto e servizio, ma ne acquista diversi perché è stata contenta con noi. Quando in un sito e-commerce tu arrivi al tuo carrello, paghi e compri un prodotto, e vedi sotto immediatamente la proposta di prodotti simili, ecco, si sfrutta la Customer Retention in quel preciso momento, perché hai fatto capire all'azienda che tu sei interessato all'azienda, hai già attraversato il Customer Journey, sei arrivato dall'altra parte e hai acquistato un prodotto. Quindi perché non offrirti acquisti multipli? Prova a pensare come tu puoi offrire acquisti multipli alle persone, quando le persone però hanno già dato segno che sono molto interessate al tuo prodotto, oppure ancora meglio quando l'hanno comprato. Ad esempio potresti creare una newsletter con una lista solo di clienti, a cui mandi offerte che sono dedicate solo appunto a chi è già tuo cliente, e non a chi non ha ancora acquistato. Altre due strategie sono upselling e cross-selling, quindi vendere prodotti di più alto valore e vendere altri prodotti simili, che magari servono per integrare il prodotto di base, a clienti che hanno già comprato. Se hai diversi tipi di prodotti che partono dai 100 euro, arrivano ai 1000 euro, è ovvio che di solito il cliente che non ti conosce inizia a comprare un prodotto di base, per poi magari scegliere un prodotto di più alto livello perché gli sei piaciuto. E quindi devi sempre avere nel tuo sito, nelle tue landing page, la proposta di upselling quando sai che una persona ha già comprato un corso, ha già comprato un prodotto, ha già comprato un tuo servizio, e quindi potrebbe essere efficace mandargli un'offerta di un prodotto superiore. Cross-selling è la stessa cosa, quindi la persona compra un prodotto di base perché non offriggli qualcos'altro. Il cliente compra il corpo della macchina fotografica perché non offriggli anche gli obiettivi, ad esempio. Hai questo tipo di offerte, ad esempio nel tuo e-commerce, se hai un e-commerce, o comunque hai una newsletter specifica dove tieni aggiornati i clienti su nuove offerte, per i clienti specifici che hanno comprato un tipo di prodotto particolare, quindi altri prodotti correlati sono veramente interessati, se non l'hai fatto prova a pensare come puoi mantenere vivo l'interesse dei clienti e quindi puoi sfruttare questo interesse per vendere di più. Ricordiamoci di altri due vantaggi della customer retention. Uno sono i maggiori costi di conversione di un lead a cliente. È molto più costoso, di solito, trasformare un lead in un cliente pagante, piuttosto che mantenere vivo un cliente. Per cui mantenere vivo un cliente con nuovi contenuti, con offerte speciali per lui, con eventi dedicati, con qualsiasi cosa lo mantenga ingangiato, spesso è molto meno costoso che non creare da zero un nuovo cliente. E poi un altro elemento fondamentale che devi mantenere come obiettivo nella tua strategia di content marketing è l'advocacy. Vuol dire il rendere fan i tuoi clienti perché loro facciano da cassa di risonanza, quindi perché loro siano il passaparola, perché quando le persone cercano dei prodotti e servizi che vendi anche tu, siano loro a consigliare te. E quindi devi pensare a creare alcuni tipi di contenuti che mantengano vivo questa voglia di passare parola e quindi crea dei contenuti magari mostrando ai tuoi clienti quanti vantaggi veramente dai, quanti vantaggi hai dato anche a loro, proponendo anche delle demo gratuite, perché no in questo caso, perché? Perché magari non interessa a quel cliente, magari è una demo di un servizio che può costare anche tanto, che però potrebbe interessare a un altro cliente che è amico del tuo cliente di base, no? E quindi anche pensare a questi obiettivi per creare dei fan è importante perché poi questi fan parlano di te e sai benissimo che il passaparola è uno degli strumenti di marketing ancora più efficaci, che però spesso viene gestito male perché viene gestito in maniera casuale, mentre invece può essere anche creato, no? Può essere anche gestito in maniera un po' più efficace. Pensa al content marketing con questi obiettivi in mente. Da una parte mantenere sempre le call to action vive perché i clienti che sono già clienti possano avere l'opportunità di comprare altri prodotti. E poi pensa a obiettivi che mantengono vivo l'interesse dei clienti e che mantengono vivo anche l'emozione che dai a quei clienti, mantengono vivo l'idea del valore che dai ai clienti perché quei clienti diventino poi i tuoi fan.